Ci aspettavamo un avellino tonico, come secondo me lo è stato, magari forse abbiamo impostato la partita ma noi di base andiamo ad attaccare altri avversari, cerchiamo di non farli giocare da subito, poi a volte ci riusciamo, a volte no e magari paghiamo tazio dietro, però oggi è andato tutto per il meglio, quindi abbiamo poco da rimproverarci, siamo contenti, magari nella partita precedente, la settimana scorsa non siamo riusciti a prendere i tre punti per qualche imprecisione sottoporta e poi a lungo andare magari queste cose in campionato le paghiamo, però ovviamente contentissimi, quanto riguarda il campionato è molto livellato, lo dimostra la classifica che è corta, anche se l'Avellino è partito molto forte, ma dietro a lei Cassino, Monterosi, ecco oggi abbiamo fatto un'ottima partita contro la prima classifica che ci dà forza, normale, però veniamo comunque da un assetto squadra dell'anno scorso, ha conquistato un terzo posto con i playoff, quindi è ovvio che ci crediamo, poi sta al campo, stabilire dove possiamo arrivare. Ho visto che vi siete ricordati, sì, diciamo la bestia nera tra virgolette, no, come dice il cap, abbiamo impostato bene la partita, durante la settimana abbiamo lavorato, molto bene e niente, loro sono una squadra di tutto rispetto, oggi noi arrivavamo prima sui palloni e si è decisa la partita tutto qua. Qualche punto ce lo siamo perso per strada, in casa con la Dispoli, lo stesso domenica con la Nagni, abbiamo lasciato qualche punto, però siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, sempre profilo basso, testa bassa, lavorare come facciamo ogni settimana e preparando le partite come le abbiamo preparate oggi.